Ciao a tutti ragazzi, direttamente dalle farm vi faccio questo assaggio della Splash Cola che viene prodotta a Charleville, che è una città che si trova a circa 200 km a nord di Cannamalla. È la più vicina andando verso nord in realtà, anche se sono ben 200 km appunto. Dovrebbe sapere di Coca Cola, adesso vedremo. Andiamo a versare. E adesso assaggiamo. In realtà più che di Coca Cola sa di Chinotto e questo mi piace particolarmente tanto, visto che è tra le mie bevande preferite il Chinotto. Se piace anche a voi Chinotto, di sicuro se passate da queste parti, prendetevela e assaggiatela questa cola. Io adesso vi lascio, anche perché riaccenderò l'aria condizionata perché sto per sciogliermi. Finisco il mio bicchiere di Splash Cola e noi ci vediamo al prossimo video. Vi ricordo che in descrizione ci sono i link a tutti i miei social e se volete lasciarmi un like o un commento sarò molto felice. Potete anche condividere il video se volete con i vostri amici. Ciao! 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 Grazie a tutti